IMU, emergenza rifiuti, più controlli e maggiori sanzioni, bilancio comunale. Di questo e altro si è parlato nella prima puntata di Postitti, il programma in onda sulla nostra rete condotto dalla collega Giovanna Cascone, ospite fisso della trasmissione del sindaco Giuseppe Nicosia e i cittadini con le loro telefonate, le segnalazioni, le loro domande o messaggi. Tra le domande più ricorrenti, la questione relativa all'IMU, tassa statale che preoccupa parecchio i cittadini, soprattutto per chi ha più di una casa. Ed ecco che ieri sera, dagli studi di Postitti, il primo cittadino ha fatto il punto della situazione e ha spiegato che si tratta di una tassa che va necessariamente pagata, ma non si deve assolutamente parlare di IMU-Bis. Non ci sarà nessuna IMU-Bis perché è una stortura incredibile, il cittadino deve conoscere sin da lì, e noi, io anch'io, pago le tasse, vogliamo tutti sapere sin dall'inizio quali sono le tasse della liquida, non si possono inventare in corso d'opera e modificare. Il Comune di Vittoria, che ripeto, non vuole pesare assolutamente, nonostante per come sono combinate le risorse economiche e i trasferimenti dello Stato, lo Stato consiglierebbe di mettere un IMU al 6 per mille, al 7 per mille, ha deciso di mettere al 4 per mille, cioè il minimo di legge, la tassa sulla prima casa, che con le detrazioni previste sempre dalla legge, quelle che anche noi stiamo cercando di aggiungere, sarà un costo pari alla vecchia ICI, in alcuni casi addirittura anche inferiore. Quindi da questo punto di vista stiamo facendo quello, anche perché quando dicono ci sono dei sindaci in Veneto che non appliceranno l'IMU facendo disobbedienza civile, non è vero, basta vedere Repubblica di giorno 6, che ha pubblicato come si stanno comportando, stanno facendo come stiamo facendo noi, cioè mettono al minimo, aggiungono una detrazione sostanziosa e quindi così sulla prima casa, ovviamente il cittadino pagherà poco, come lici di una volta, perché allora gioca un ruolo purtroppo negativo, la seconda casa, la terza casa, eccetera, lì per compensare quello sconto che facciamo a tutti sulla prima casa è stata applicata un'aliquota superiore al minimo, ma comunque non oltre quelli che sono i parametri ordinari che tutte le città d'Italia stanno adottando.